Welcome to MiroTV! Ragazzi, ci hanno provato in tutti i modi Ci hanno provato davvero in tutti i modi A farmi fare un video sfogo Alla fine ho deciso di non farlo Perché non mi sembra una delle puntate di Raw più brutte dell'anno Ma davvero ho visto delle cose Di cui una, e in miniatura, è probabilmente la cosa più grande La cosa più brutta che io abbia visto nell'ultimo periodo Ho visto delle cose che mi hanno lasciato davvero perplesso Mi hanno lasciato davvero perplesso Con la voglia di prendere il telecomando in mano E lanciarlo contro la televisione E io queste sensazioni le provo soltanto quando guardo Raw Ed è clamoroso Perché io ho fatto due video sfogo delle puntate Anzi ne ho fatti tre Una sulla holletta ma per un altro motivo Non per qualcosa di negativo del prodotto Ma per un altro motivo Ed è clamoroso come non riesca a suscitarmi queste emozioni brutali Per quello che mette in onda Allora partiamo subito dall'inizio Un qualcosa che secondo me è stato positivo Visto che la storia non ha più tanto da offrire Anche se Anche se secondo me Non finirà a TLC Perché Rusev come c'è scritto lì Alla fine di tutto quanto il segmento Ottiene divorzio e match Quindi si è divorziato da Lana Bellissimo questo confronto tra i due Lana che più volte impazzisce Che si prende pure il pubblico Rusev invece che è stra-over Che sorride Come i miglior tempi di Finn Balor e Bobby Roode Che ormai Rusev ha completamente cambiato personaggio Sembra a volte un pochino un coglione Ma diciamo che questo segmento a me sono piaciuti tutti e tre Mi è piaciuto anche Bobby Lashley Che non ha fatto tempo ad arrivare Che già stava sul tavolo E probabilmente anche questa domenica finirà sul tavolo Anche se Anche se Ripendo sto po' Anche se bellissimo Io ho parecchi dubbi Essendo stato annunciato Rusev contro Lashley Come table match Mi viene da pensare Che possa esserci qualche finale a sorpresa La presenza di Lana Alle spalle di Bobby Lashley Mi porta a pensare Che potrebbe finirci anche lei Sul tavolo Potrebbe addirittura portarmi a pensare Che ci finisce Rusev E poi quest'ultimo la Royal Rumble Elimina Lashley Sono tutti i finali Sono tutti i finali Che potrebbero portarci Al continuo della storyline Fino proprio alla Rumble Sarà una mia sensazione Ma il segmento Mi ha portato a questo Questo ragionamento qui E a proposito Vi informo già da adesso E lasciate subito un bel like Un bel like Quest'anno Finalmente Io e Peony abbiamo saltato soltanto Un pay per view L'anno scorso Proprio Tio Finisce la sua mazza amicidiale A Kevin Owens Mazza molto importante Durante la puntata Perché va a finire Sulla schiena Di Mojo E non degli OP Di Mojo Bellissima sta cosa E va bene Ho voluto menzionarvelo Perché comunque Meritava di essere menzionata Primo match Primo match da serata È Matardi contro Drew McIntyre Perché settimana scorsa Noi l'abbiamo visto No Drew McIntyre è andato face to face Proprio con Matardi Ha fatto un grandissimo segmento Infatti la WWE Ha deciso di far fare Quest'opener Che di solito L'opener dovrebbe essere La creme della creme Una delle creme della creme Della puntata Invece qua Roba completamente Inzionata McIntyre Trova il coraggio Di promare Anche contro quel Poraccio di Matardi Che è nato il figlio Qualche giorno fa Perché mi fai Un OPEN del genere Io ancora Fatico a capire Fatico a capire Certe cose Cioè L'OPEN Poteva essere Tranquillamente L'open challenge Dei Dei Vaggin Riders Ma tranquillamente Proprio No Invece Mi fai Matardi contro Drew McIntyre Questo Proma addirittura Trova anche il coraggio Di promare Contro il fratello Di Jeff E lo batte In un match Velocissimo Un bello Opener In mio presto Parere Di merda Un bello Opener Di merda Passiamo avanti Perché poi La marcia Di Di Kevin Owens Lo accompagna Nel backstage Fino a che non si trova Face to face Con Mojoo Simpaticissimo Mojoo ragazzi Che dice A Owens Ho visto I Io Do so Pain Lì Anzi Non l'ho visto Lì Anzi Ma simpatico Io stavo ridendo Ho detto Quando è che gli dà Sta mazza in faccia Così ce lo togliamo Dalle palle Invece no Gli dà uno schiaffone Owens E io L'ho goduto Vi dirò L'ho goduto Ho detto Ah che bello Sì ce lo siamo Siamo torti E ha preso Pure uno schiaffo Dopo sto segmento Imbarazzante Apri di cielo Il segmento Imbarazzante Lo schiaffo Di Owens A posto Di una mazzata In faccia Porta a Mojoo Altro minutaggio Durante la puntata E mi fermo qui Andiamo avanti Perché come ti dicevo Prima I Vaghi Riders Fanno un open challenge Rispondono I Street Profits E ragazzi C'è il match Camorosamente Non abbiamo Dei Jopper Contro i Vaghi Riders Abbiamo I Street Profits Contro i Vaghi Riders Per i titoli Di coppia Match Velocissimo Con i Street Profits Che partano a 3.000 Soppartiti Tutti a 2 A 3.000 Infatti Hanno messo in difficoltà Sia Eric Che Ivar Ma appena Questi riescono A prendere in mano Il reddito Nella contesa Possono fare Ben poco Angelo Tokis E Montesford Soprattutto quest'ultimo Che viene fatto vittima Della micidiale Finisher Dei Dattini Di coppia Di Raw Però cazzarola Cazzarola Lasciatemi dire Che Mi sono divertito Nonostante sia stato Un match davvero corto Stato davvero breve Però mi sono divertito Questo E di questo Ha bisogno Della Team 10 Di match così veloci Match stile NXT Poi Mi è sembrato Voler andare troppo veloce Per farlo finire Nel minor tempo possibile Ma forse ci sta anche Ci sta anche Perché i Vaghi Riders Comunque sono affrontato Un buonissimo periodo Ok Che sono stati Fatti fuori Dai Good Brothers Lì nell'evento arabo Ma facciamo finta Proviamo a far finta Di nulla Anche se lo tosta Però Super Series Sono gli unici Che hanno portato Un punto a Raw Sono gli unici Quindi Ragazzi Lasciatemi dire Che ho apprezzato Sta vittoria Abbastanza veloce Dei Vaghi Riders Fatica a dover Fatica a dover Set Rollins Vi dico La mia Non è sta verità Io non ho mai fischiato Rollins E mai lo fischierò Ma ora che diventa Uno dei fasi No puraccio Che l'hanno fatto D'orna fa Però Davvero io sono Contro Chi ha fischiato Set Rollins Perché il problema Non era Rollins Il problema è stata La gestione Di Rollins Lui L'ha patita parecchie Questa cosa E ce lo fa capire Anche più tardi Rollins Qui Si prepara Ad affrontare IOP Da solo In vita Sul ring Ci facciamo Quest'handicap match Vi voglio distruggere A destra e sinistra Risuona la team Di Kevin Owens Che fa subito capire Di non credere minimamente Alle parole Di Set E tra i due E scappia Un litigio verbale Che viene interrotto Soltanto Dal Tron Che ci mostra Le immagini Dei OP Che sono appena Arrivati in arena Rollins dice Dai metti da parte Questi due stupiti Ragionamenti Prepariamoci a questo Tactic match Asfaltiamo questi due Owens Continua a non crederci Continua a sparare a zero Su Rollins Dicendo poi che Lui è pronto A affrontarli Tutti e tre Anche perché Ha la mazza in mano Si prepara a fare Quindi su tre contro uno Rollins Sblocca Sblocca Come ha fatto Settimana scorsa Dicendo che Kevin gli ha rotto I coglioni Se ne lava le mani Esce dal quadrato E se ne torna Lì Nel backstage Owens Scoppia a ridere Si prepara Ad affrontare gli OP Che però Non si presentano Perché risuona Risuona la team Di Semi Zane Io appena ho sentito Risuonare la team Di Semi Zane Mi sono messo Pauro E toccali Il ritorno Da Wild Carole Infatti subito I commentatori Hanno evidenziato Questa cosa Oddio è una vergogna Che ci fanno A tre di Smackdown E poi bravissimo Semi Zane A dire Non c'entra niente La Wild Carole Io sono un manager Ho ottenuto un permesso Per stare Sia la Wild Carole A Smackdown Perché sono un manager Si ma di chi? Di chi sei manager? Cioè davvero Davvero hanno affiancato Semi Zane Zane a Mojo Davvero Nakamura Cesaro Che per me è un'atleta elite Cesaro E Mojo Perché? Perché Mojo Perché Zane Deve rappresentare Mojo Che ha fatto vedere Di essere incazzato nero Per lo schiaffo Che ha preso Un faccio Da Kevin Owens L'unica cosa Che mi è piaciuto Di Mojo È che dopo Che Semi Zane Ha invitato Kevin A chiedere scusa Al suo assistito Mojo sblocca Prende il microfono A mano Ma chi te crede di esso Se è Kevin Owens Eccetera eccetera Ha avuto almeno Il coraggio Di prendere il microfono A mano E parlare Cosa che non fa Nakamura Cosa che non fa Cesaro Lui l'ha fatta E infatti Si è preso le botte Da Kevin Owens Si è preso le botte Da Kevin Owens Con quella Mazza di Rey Mysterio Che va a sbattere Su tutto il corpo Di Mojo Soprattutto sulla schiena E quindi Mojo viene distrutto Due volte In una puntata In un segmento Che dovrebbe servire Teoricamente Soltanto a Kevin Owens Ma cosa? Cioè Gli hai fatto delle mazzate A Mojo Che non è nulla E Mojo È il nulla Ok che a Menevent Tra un po' Gli troviamo Mister Menevent Abbattuto Static Alexander Vicino di casa Il bagnino Quando va in piscina Ma poi Colpo di tosse Ci sta tutto Il colpo di tosse Ci sta tutto Perché Io sono indignato Davvero Questa è una cosa Che mi fa incazzare Ma non è solo qua Occhio Ora sembra che Ho parlato di Mojo Che cosa finisce qua No Ehi Mojo e Zinno Mojo e Zinno No ragazzi Poi La grandissima Stable Cesaro Nakamura Mojo Tra un po' Prendono un pullman E vanno a Jobberlandia Cioè Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Che poi C'è stato un buonissimo Confronto Anche se i match Non sono stati nulla di che Buonissimo confronto Tra Alistair Black E Buddy Murphy Il primo Ha battuto Akira Dozawa Non c'era Un Midcard Rilda Da rimpasto Alistair Black Quindi Gli diamo L'impasto Il buon Torzawa Che a volte Fa buonissimi match A volte Nulla più totale Questa secondo me È stato nulla più totale Match molto veloce Black Mass 1 2 3 Akira torna Ma in un momento NXD sicuramente Ora riapparirà NXD Perché questo Sta a fare Anche a contrastare Il manager Il manager di Redder Che è stato Hawkins Visto Visto che sono Un tag team E a me Questa cosa Mi è piaciuta Non mi sono piaciuto Le contese Però questa cosa Mi è piaciuta Perché poi Durante i match Si sono sfidati Anche il livello De promo Questa è una storyline Intermedia È stata gestita Secondo me Molto bene Molto bene Nulla di trascendentale Occhio Nulla di trascendentale Però è stata gestita Molto bene E ho hype in vista Di 3 3 Perché è stato annunciato Un single match Tra due Black Contro Murphy Al 3 3 Mi è piaciuto Sono sincero Mi è piaciuto Invece Non mi è piaciuto Minimamente Senza che leggo Cariglio Contra Andrade Cariglio Contra Andrade Ragazzi Ma non il match Occhio Aspettate Che secondo me È stata una contesa Superiore a quelle due Che vi ho detto Fino a qualche istante fa Ma la costruzione La costruzione C'è Cariglio Nel backstage Che sta a fare un promo Vede Zerinevega Zitta un attimo Intervistere Dice Guarda c'è sta Zerine Zerine dice due parole E poi Improvvidente alle spalle Sbuga Andrade Alle spalle Zerine sbuga Andrade Inizia a spintorare Cariglio Rispetta la muniega Rispetta la muniega Rispetta la muniega Quando Cariglio Non gli aveva detto nulla Cariglio A Zerine non gli aveva detto nulla Non aveva anche il tempo Di rispondere Ai parole veloci di Zerine E da questo Nasce la contesa Con Andrade Che rispetta la muniega Riesce a ottenere Il single match Contro Cariglio E lo perde Proprio per colpa Della muniega Di Zerine Che si apposta Sull'Ebron Si scontra Con Andrade Che è stato Secondo me Molto Ingenuo Visto che Cariglio Stava cercando Ovviamente quel contatto Ma ci sta Visto che Quello deve raccontare Nel match Roll up Di Cariglio 1-2-3 Quest'ultimo Scappa Dopo questa Buonissima vittoria Addirittura Al tavolo di commento La vittoria Più importante Della carina Di Cariglio Quando lui È riuscito A pinnare A gestarsi In un Menevent In un 3-4-3 Ma va bene così E poi Che cosa succede Una discussione Incredibile Tra Andrade E Zerine Ci vogliono far capire Che questi due Potrebbero separarci Perché 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 Andrade Che va a dire Un problema tuo Un problema tuo Non è un problema mio Ma di che cosa Ma di che state parlando Ma che cosa è successo Ma io non ho capito Né quello che è successo Prima Né quello che è successo Dopo Oh Io Rimassero Libito Poi se La W-2-3 Separa Zerine Andrade Non so Cosa potrei fare Davvero Io Ho fatto Tre video Sfogo Anzi Due video Sfogo Con i puntati Rò Preparatevi Preparatevi Perché stavolta Davvero Faccio come Mastrangelo Che lancio qualcosa Però Rispetto Per la Mugnega Rispetto A Mugnega A fine match Quello sbrocca Problema tuo Roba Davvero Da mettere Sfimento i capelli Se separano Andrade Io Spaccoluto Spaccoluto Vabbè Andiamo avanti Finita qui Ah no No C'è stata Qualcosa di interessante Stava annunciato Qualcosa di interessante Ovvero Il ritorno Di Liv Morgan Quello che c'era scritto Make up over Potrebbe significare Davvero tantissime cose E non mi ci soffermo Adesso Però Io dentro di me Mi aspettavo Qualcosina di diverso Per Liv Morgan Magari un ritorno A sorpresa Che luci che si spegnevano E si presentava Per devastare qualcuno Invece Non è venuto Può ancora accadere Può ancora accadere Però Non so voi Io mi aspettavo Qualcosina di diverso Mi è sembrato Un qualcosa Troppo semplice Sta per tornare Così Mi raccomando Simentate sintonizzati Poca roba Dopo tutti quei tweet Che sta facendo lei Questa immagine Il profilo nero Questi tweet strani Mi aspettavo Qualcosina di più Almeno sinceramente parlando Che ho saltato prima Per colpa de Mojo Nulla Ok Mancano le cose Praticamente più importanti Della puntata Kevin Owens Il canadese Torna nel backstage E con sta mazza in mano Trova la macchina Degli Adorso of Pain E comincia a distruggerla Quindi la mazza Dove aver distrutto Anche Mojo Distrugge anche La bellissima Vettura Dei OP Quando Kevin Owens Si ritrova Verso il porta bagagli Apre tutto Improvvisamente Viene attaccato Da proprio loro Rezar e Agam Che iniziano a devastarlo Malamente Owens Non può nulla Essendo anche Stato attaccato alle spalle In maniera vigliacca Da quei due E quindi Agam E Rezar Hanno la meglio Adesso non mi ricordo Chi Può essere pure Tutti due Insieme Sia Agam Che Rezar Vanno ad aprire Per bene Il porta bagagli E una sedia si gira Con Rollins Ragazzi con il cappuccio Che Che era rimasto Praticamente lì Ad ascoltare il tutto Per poi Infilire anche lui Su Owens Perché quando si tira Su sto cappuccio E il pubblico rimane così Oddio Non me l'aspettavo Era chiamatissimo Secondo me Rollins Va connettendo Un violentissimo Come Stomp A Kevin Owens Sul pavimento E da lì Possiamo tranquillamente Capire Senso parlare Poi del promo Che Ragazzi Rollins Ha due nuovi alleati E' tornato ill E quindi Prepariamoci a qualcosa Di nuovo Rollins In quel promo Secondo me Gliel'hanno fatto fare Perché Doveva mostrare Di essere frustrato In maniera Incredibile Che Rollins E' stato davvero frustrato In queste settimane Ma non solo Screen ragazzi Anche su Twitter Anche sui social Non gli è andata giusta Cosa che il pubblico L'ha tradito Non è Non è Rates Non è Non è Quei livelli La Rollins E' sempre stato Un tipo diverso Ma giustamente ragazzi Perché le copie So brutte E' meglio che Lasciamo lo stesso Tipo di discorso Rollins fa capire Di aver trovato Due nuovi amici Tutto il resto Non gli frega più un cazzo Anche se mi viene da dire Che pur sempre Un futuro marito Di Becky Lynch Top star Face Della categoria femminile Di Raw Ma proprio Della categoria femminile Della WWE Vediamo un po' Come gestiranno il tutto Sono un pochino curioso Quello si Ma Bah Raw Purtroppo Come vi ho sempre detto Raw non si può basare Soltanto su Raw Rolling Seed C'è bisogno anche D'altro Io voglio tantissimo Benassett Ma uno show Non può puntare Soltanto su un uomo Assolutamente Soprattutto questo Boogie qua Soprattutto questo Boogie qua Perché a volte Mi trovo a legge Ecco Rolling Seed Raw sarebbe diverso Con Senza Brock Lesnar Raw sarebbe diverso Ragazzi Abbiamo visto Quando Lesnar ha perso Il titolo Non è che è cambiato Chissà cosa Raw Cioè Il problema È proprio Il team booking È il booking Le storyline La mancanza a volte Le storyline La logica Quello che rende Bello una storia Perché possono fare Tantissimi match Possono fare I livelli Quelli derivati Della madonna Però Se non raccontano storie Se non ci sono Storyline Non c'è gente Che sa promare Non si andrà Mai avanti Non si raggiungeranno Mai i livelli Importanti E l'abbiamo Visto Con NXT L'abbiamo Visto Con Dynamite Della All Elite Wrestling E l'abbiamo Visto anche Con Smackdown Smackdown A volte Magari sbaglia qualcosa Ma comunque La puntata È quasi sempre Piacevole Perché Guardate la struttura La struttura Della card Di Smackdown Dell'ultima puntata E guardate la struttura Di questa card Qui Finisco il discorso Con Becky Lynch Che vince Per squalifica Contro Le Kabuki Warriors Vediamo Vediamo Una grandissima Che risena Andare a fare Il suo Insane Elbow drop Dal paletto Con Becky Lynch Che era stata Apparecchiata Sul tavolo E da lì Avevo già capito Tutto Ma sta storyline Ragazzi Praticamente La capito Anche il mio vicino Di casa Che non segue Il wrestling Avrebbe dovuto Portare Charlotte e Becky Contro Il Kabuki Warriors Per i titoli Di coppia Di quest'ultima Ciò è avvenuto Come c'è scritto Lì Le Kabuki Fanno un miracolo Evidentemente Sì perché Charlotte e Becky Mettono da parte La loro Rivalità Incredibile Fanno coppia Proveranno a togliere I titoli A quelle due Giapponesi Che secondo me Stanno facendo Un grandissimo lavoro E anche in questa puntata Mi sono piaciute Non solo Per quanto hanno fatto Lì sul ring Ma anche lì Nel backstage Con Charlie Caruso Il promono in giapponese Poi c'è la traduzione Loro ridono sempre Bellissime Nei Kabuki Warriors Il pronostico Lo lascio Poi I pronostici Giazi E a propos Ah no Già ve l'ho detto Ah Edge Styles Proma A proposito di promo Proma anche Bigger Brothers Lancia una sfida Ai Vicky Riders Dicendo che Loro due Non hanno perso Contro nessuno Se non contro I suoi Grandissimi Pelatoni Che ha alle spalle Praticamente Penso che questo match Si farà a TRC Styles fa anche General Manager Fa tutto Fa il General Manager Il manager Il grandissimo atleta Fa tutto quanto E poi Styles Va a provocare Anche Orton E questa cosa Gli costa Il match Lì nel Menevent Perché quando Vanno a fare Il Menevent Il misterio Contro Gia Styles Per il titolo Stati Uniti La presenza La presenza di Orton Si risulta essere Fatale C'è stato un bel boc Nel finale Di contesa Con Styles Che non riesce A tenere Per la Styles Clash Dal paletto E ciò Costa un pochino Alla bellezza Della contesa Che era comunque Venuta abbastanza bene Ragazzi Styles Connette comunque Una Styles Clash Su Rey Mysterio Abbastanza normale Come Styles Clash Però Non riesce a vincere La contesa Perché Orton Lo va a distrarre Rey Mysterio Rinviene Come il miglior Undertaker Di tutti i tempi 1,2,3 Con una bella Culla pure lui Perché i miei cigani Solo deculle Sanno vincere Almeno sta puntato Ovviamente E quindi Rey Mysterio Resta Campione degli Stati Uniti Vedremo Randy Orton Contro Styles Boh Rey Mysterio Difendere altri Stati Uniti Boh Fatemi sapere la vostra Qui sotto Nei commenti Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi Al canale Come questo è ancora fatto Dammi da tutto Too sweet Attenzione Too sweet